La giornata di oggi per il Carnevale di Fano, lungo la strada che porta l'edizione 2020, è una giornata cruciale. Sì perché questo pomeriggio, a partire dalle 15, rinchiusi in conclave nella sede dell'ente carnevalesca, ci saranno i 5 componenti, la commissione di esperti, che ha il pesante compito di scegliere i bozzetti per la realizzazione di 4 nuovi carri, tre di prima categoria più minicarro, che sfileranno in Viale Gramsci il 9, 16 e 23 febbraio prossimi. La commissione dovrà valutare impianto scenico, originalità del soggetto, allegoria, movimenti, illustrazione, regia, brio e luci. La commissione è composta dall'architetto Stefano Marcheggiani, già assessore alla cultura del comune di Fano, dalla costumista Maria Letizia della Felice e da una delegazione del Carnevale di Cento, composta da due maestri carristi dell'associazione Fantasticento, vincitori del premio come miglior carro dell'ultima edizione del Carnevale d'Europa e presieduta dal direttore artistico dello stesso Riccardo Manservisi. Siamo stati contenti di essere stati questo onore e anche onere perché sappiamo che ragazzi ci tengono molto, lo prenderemo molto seriamente, di scegliere essere presidente di commissione, mi farò coadiuvare dalla nostra società che ha vinto lo scorso Carnevale, Fantasticento, cercheremo di scegliere i bozzetti, no, per l'edizione 2020 del Carnevale di Fano. Siamo molto contenti, purtroppo le date tra il nostro Carnevale e il vostro non riescono a coincidere in modo da potervi venire a trovare nell'edizione prossima avventura, ci dispiace molto, magari venite voi perché noi riusciamo a fare 5 weekend, ve ne aspetteremo uno di questi. Cercheremo dopo di scegliere per il meglio quello che è artisticamente per il 2020. I bozzetti vincitori saranno poi svelati al primo direttivo dell'ente carnevalesca che avverrà nella tarda serata di oggi, quando si apriranno le buste si scoprirà quali sono i giganti di carta pesta che più rappresentano il tema di questa edizione del Carnevale, ovvero le vie dell'eco che quest'anno, altra novità assoluta, è in aste di partenza per la realizzazione dei carri con due mesi d'anticipo rispetto a contueto mese di novembre, grazie a precedenti accordi tra carristi ed ente sulla suddivisione dei lavori. Ebbè, quando si riesce a lavorare serenamente e seriamente i risultati arrivano. Sì, quest'anno partiamo con i giusti tempi, siamo molto contenti di questo, sono contenta di essere riuscita ad invitare i maestri carristi e il direttore artistico del Carnevale di Cento che daranno un contributo alla realizzazione del nostro Carnevale e penso che anche i carristi siano contenti, i nostri carristi siano contenti di questo perché è questo che chiedevano dei professionisti che giudicassero i loro lavori. Partiamo con un buon auspicio e questo mi dà molta serenità.